Siamo partiti bene, abbiamo fatto un primo tempo ad alta intensità, è arrivato il gol e come spesso ci succede il secondo tempo diciamo che ci abbassiamo il secondo tempo e cerchiamo di difendere la partita come è anche normale che sia. Il rammarico più grosso è aver preso questo gran gol nei minuti finali, dispiace però dobbiamo continuare a lavorare e cercare appunto già alla prossima partita che è importantissima di portare a casa i tre punti e portare a casa il prima possibile la salvezza. Come appunto si può vedere in queste ultime partite stiamo cercando di giocare palla a terra il più possibile, in verticale verso la punta il mister ci sta dando una mano, ci sta facendo lavorare in settimana su alcuni movimenti, ad esempio io che mi butto nello spazio che personalmente non facevo, appunto sono movimenti che devono entrare in testa dei giocatori e quando verranno appresi da tutti la qualità del gioco migliorerà ancora secondo il mio punto di vista. Sì siamo tutti ragazzi giovani comunque a parte due o tre quindi il gruppo è normale che ci sia, siamo un buon gruppo io personalmente sono amico di tutti perché mi trovo bene con tutti soprattutto con Federico però speriamo che arrivi una punta centrale, la società sa cosa deve fare, sa come muoversi nel mercato e speriamo che arrivi a darci una mano e appunto riuscire a portare a casa la salvezza come ho detto prima il prima possibile e riuscire a fare i punti. Perché il gruppo, l'ambiente? Personalmente c'era la caronnese che mi cercava, ho deciso di rimanere a Varese proprio perché mi trovo bene con i compagni di squadra con la città, con la società, con i tifosi, mi vogliono bene, mi sono trovato bene fin dall'inizio sto facendo bene e non è un caso perché mi sto trovando bene con tutti quindi sono rimasto qua anche per questo motivo e spero di continuare a far bene fino alla fine dell'anno e magari riuscire a fare il salto. Ti senti importante per questa squadra? Tutti sono importanti, so che ci sono importanti.